Sono tre anni che lo vado raccontando a destra e a sinistra, ma c'è ridono. Ma adesso lei cosa vuole fare? Vuole lasciare questa casa, comprarne un'altra, vuole i soldi indietro, cosa vorrebbe? La situazione mi piace qua, mi piace perché ho il terreno, mi piace la casa, mi sento un po' attratto da questo posto, non riesco a capire. Nello stesso tempo sono contrastato da un'altra decisione di andarmene. Sporto denuncia? No, non ho sporto nessuna denuncia perché con l'avvocato non è che non mi ha creduto mai, non mi crede nessuno. E in casa quindi non si può entrare perché è già venduto l'esplosiva a qualcuno? Non lo so, io questo non lo so, l'avvocato, se vuole parlare con l'avvocato, ha il numero, parla con l'avvocato. Io adesso, signori, posso anche congetarmi perché non lo so. Io non ho visto mai niente, ho visto solo questi fenomeni, questi rumori che ho sentito, questi sì, che si continuano a sentire, che attualmente si sono un po' attenuati perché noi abbiamo intrapreso, cioè facciamo delle preghiere tutte le sede. Grazie.